Siamo qua con Bruno Manera, Sales Manager di Banca Generale di Private Banking e capo della rete. Bruno, come è andato il primo trimestre del 2014? Diciamo che siamo soddisfatti di come siamo partiti. Nei primi tre mesi abbiamo, anzi nei primi quattro mesi, perché ormai si parla di quadrimestre, abbiamo realizzato una raccolta di intorno ai 350 milioni. Questo ci fa ben sperare di chiudere il primo semestre intorno ai 600 e l'obiettivo è quello di arrivare a un miliardo alla fine del 2014. Direi che è nata anche bene da un punto di vista dei primi inserimenti private, perché abbiamo inserito sette persone, sono tutte persone che arrivano dal mondo del private banking, sia soprattutto banche del private, ma anche delle reti. L'obiettivo comunque è quello di superare i 20 inserimenti alla fine dell'anno con una media di portafoglio che sta intorno ai 40-50 milioni. Quindi siamo decisamente ottimisti e ben avviati. In termini di area, dove volete rafforzarvi in Italia? Noi diciamo che solitamente i nostri punti di forza sono il nord, quindi dalla Lombardia al Piemonte, la Liguria, l'Emilia Romagna, la Toscana e il Triveneto, fino ad arrivare a Roma. Roma diventa una realtà interessante per noi. Parlando di mercato, il mercato del private in Italia, secondo lei come sta andando? Quali sono i punti di forza e i punti deboli del settore? Sicuramente è un mercato in evoluzione, semplicemente perché la crisi che continua va a intaccare anche i portafogli di chi una volta probabilmente non temeva effetti della crisi, quindi diciamo il risparmiatore private, quindi penso alle persone che stanno tra i 2-3 milioni di euro, che probabilmente un tempo davvero non avevamo problemi di sorta sul discorso crisi e cominciano in effetti a patire un po' anche di questa situazione, quindi sicuramente è un momento particolare e noi dobbiamo stare sempre più vicini a questo tipo di... E Banca Generali Private come cerca di ovviare a questo momento? Beh, noi da qualche anno ormai abbiamo avviato, da un po' di anni a questa parte la nostra banca ha attuato una politica prudenziale sui portafogli dei clienti andando a limare e a ridurre quella che è la componente lunga sui titoli di Stato, sull'amministrato in generale, peraltro invece abbiamo rafforzato determinate aree di equity, quindi sull'azionario siamo intervenuti, abbiamo rafforzato anche questo tipo di segmento di asset per i clienti e abbiamo tratto dei buoni vantaggi sui portafogli, quindi i clienti pur senza rischiare hanno avuto delle buone performance e quindi siamo tutti quanti contenti. Perfetto, bene, ringraziamo Bruno Maniera per essere stato con noi, continuate a seguirci su BluRating.com Grazie a voi. Grazie. Grazie.